Per prima cosa ho dipinto le cantinelle con quattro tinte diverse, usando lo smalto lucido bianco, nero, il mordente e la vernice di finitura trasparente. Ho lasciato asciugare, poi con avvitatore e viti ho assemblato le cantinelle formando quattro moduli, i laterali del mio sgabello. Ho fissato tra loro i moduli, ho inserito il blocco centrale aiutandomi con la mazzetta ed infine, sempre con avvitatore e viti, l'ho bloccato. Non potevo resistere, mi ci dovevo sedere sopra, è molto comodo. Particolarmente bello e poi una soddisfazione pazzesca, ve lo consiglio.